hai mai sentito l'eco di una casa in attesa di un acquirente quel silenzio che risuona nelle stanze parla di aspettative di attese e di speranze quando metti in venita la tua casa ogni giorno sembra un'eternità sogni di voltare pagina sei pronto a farlo ma cosa succede quando il mercato non risponde come speravi è qui che entro in gioco io comprendo le tue preoccupazioni vendere casa è un viaggio a volte tortuoso spesso pieno di incertezze ma sai cosa fa la differenza trasformare l'attesa in azione come tua agente avrà in me un'alleata che conosce bene il mercato immobiliare che sa come valorizzare ogni angolo della tua casa come attrarre gli acquirenti giusti e come negoziare per ottenere il miglior risultato possibile faccio parte della community nazionale dei video agenti immobiliari e grazie al video marketing immobiliare posso vendere la tua casa prima e meglio raggiungendo nel modo più rapido un vasto pubblico di acquirenti un vantaggio che i portali immobiliari semplicemente non possono offrirti non lasciare che la tua casa resti un eco nel mercato fai il primo passo verso una vendita di successo insieme possiamo trasformare l'attesa in un'opportunità straordinaria Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti